Questa è la confezione in cui riceviamo il nostro mouse verticale, io l'ho già utilizzato e adesso ve lo faccio vedere, allora ricevete questo che è fatto così, poi avete questo supportino che è la base da aggiungere qua che praticamente quando voi andate a mettere la mano se lo tenete più su scorre bene altrimenti tende ad essere frenato questo invece con questo fa un supportino in più alla vostra mano e lo fa scorrere meglio, io personalmente lo metto perché mi trovo molto bene, vi faccio vedere la differenza con un mouse normale, eccolo qua, un mouse normale avete questa posizione e invece con questo avete questa posizione dritta, praticamente cambia, per il gaming sinceramente è più comodo questo, questo dico la verità, per il gaming questo, però per lavorare, passare tante ore al computer questo è sicuramente più comodo, è tipo una specie di controller verticale e come funziona? Allora avete qua sotto l'interruttore dove qui potete accendere questa luce che adesso vi farò vedere, qua con on lo accendete e con off ovviamente è spento il vano della batteria è qua e funziona con una pila stilo AA e questa targhetta blu è praticamente che io all'inizio la cercavo dentro a confezione ma se è qua è molto meglio perché se lo andate a spostare non la perdete perché lo potete reinserire ogni volta e questa è la porticina USB che andate a mettere nella porta appunto USB del computer, io ho già fatto l'installazione ma comunque sono proprio cose di un minuto, proprio di numero e adesso vi faccio vedere il mouse inserite la batteria chiudete il vano e poi potete selezionare con on di accenderlo normalmente oppure con la lucina e si accende questo quindi con questo accendete la lucina qua e con on avete il mouse che comunque funziona però non ha la lucina a me personalmente piace, poi comunque utilizzo una batteria ricaricabile e non consuma tantissimo poi personalmente inserisco anche questo perché supporta meglio il polso e scorre meglio poi avete questi due tastini che sono praticamente in concomitanza del pollice con questo tasto andate indietro e con questo andate avanti i due tastini destro e sinistro sono come il mouse normale praticamente con la rotellina centrale quindi la vestibilità è praticamente la solita ed è molto comodo l'unica cosa io l'utilizzo ad esempio sopra un tavolo di legno e funziona funziona anche sopra del granito lucido perché è nero se avete una scrivania per esempio bianca non funziona e ovviamente non funziona sopra una scrivania lucida tipo vetro dovete necessariamente utilizzare un tapetino che però trova abbastanza scomodo perché comunque lo vedete abbastanza grande e anche solo per muoverlo dovreste avere un tapetino almeno grande il doppio di lui o anche forse il triplo per farlo muovere bene comunque la vestibilità è veramente ottima è stata una piacevole scoperta e come mouse è molto molto utile è stato un'ottima Grazie.